Allora, l'effetto di oggi l'ho chiamato sogni e realtà. Allora, questo effetto sarà più che altro una storia. Come ben sai, quindi sogni e realtà. I sogni molte volte, quasi sempre, non combaciano con la realtà. Giusto? Sai anche che esistono dei sogni belli, dei sogni meno belli o anche addirittura degli incubi. Ma non ti preoccupare perché oggi parleremo di un bel sogno. Quindi, utilizzerò questo mazzo di carte per rappresentare questo nostro sogno. È un mazzo di carte, ovviamente, controllabilissimo. E metterò al centro del tavolo. Ti chiederò di alzare il mazzo in due parti. Ovviamente non serve essere precisi. Quindi tagli il mazzo in due. Ok. Perché nella vita nulla è precisa, così come nei sogni. Nulla è definito. Ovviamente hai scelto di tagliare più o meno carte, quindi non so quante carte ci stanno in un mazzo e quante ce ne stanno nell'altro. Ma una cosa è sicura, che i sogni e la realtà si distinguono. Quindi dovrai fare adesso una scelta. Dovrai scegliere il mazzo che rappresenterà i sogni o la realtà. Questo. Quindi, questo mazzo rappresenterà i sogni. Questo mazzo rappresenterà la realtà. Allora, hai scelto un bel mazzetto. Quindi avrai un bel margine di carte per fermarti tre volte. Quindi io scorrerò le carte sul tavolo e dovrai dirmi stop per ben tre volte. Ok? Ok. Stop. Questa? Sì. Stop. Questa? Uh-huh. Stop. Questa? Sì. Ok. E così via. Eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente nei nostri sogni possiamo essere chiunque noi vogliamo. In questo sogno potevamo essere un asso così come potevamo essere una regina. Quindi potevi decidere di essere un asso o una regina. Ma in questo sogno sarai un jack. Ovviamente nei sogni non siamo solamente una persona che vaga nei sogni, ma abbiamo delle aspirazioni come può essere l'amore, può essere la fortuna, il lavoro, i soldi, eccetera, eccetera. Ovviamente in questo sogno saremo delle carte. Quindi questo jack, quindi tu, aspiri ad essere un seme che può essere ovviamente cuori, quadri, fiori, picche. Quindi, hai scelto questa carta. Se ti fermavi prima, nel tuo sogno dovevi raggiungere questo obiettivo, cioè di diventare una carta di fiori. Una carta dopo diventavi un'altra volta carta di fiori. Ma in questo sogno diventerai, quindi la tua aspirazione sarà di diventare un jack di cuori. Ok? Ok. Quindi, il sogno prosegue, proseguono anche le carte. E ovviamente non siamo solamente una persona che aspira ad essere o di diventare qualcosa, ma dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, ovviamente superando degli ostacoli. Quindi gli ostacoli che potevano essere una carta prima, tre, una carta dopo, uno o undici. Dipende come leggiamo le carte. Ma in questo sogno, gli ostacoli da superare saranno dieci. Quindi, dieci ostacoli per diventare un jack di cuori. Ma proprio in questo momento ci svegliamo, perché è sempre sul più bello, quasi al raggiungimento del nostro obiettivo, della nostra aspirazione, ci svegliamo. Ed ecco allora che stenderò il mazzo della realtà. Però, non tutto è perduto, perché ci ricorderemo del nostro sogno. Ci ricorderemo della chiave per raggiungere il successo, la nostra aspirazione. Ovvero, superare dieci ostacoli per diventare un jack di cuori. E allora supereremo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ostacoli. Quindi li supereremo, perché, come dicevo all'inizio, quasi mai i sogni rispecchiano la realtà. Ma, se noi, ovviamente, superiamo tutti i nostri ostacoli, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. No, cavolo, bellissimo. Ecco che i sogni possono diventare realtà. Ovviamente le carte sono tutte diverse. E spero che l'effetto ti sia piaciuto. Senza parole, complimenti. Grazie. Allora, faccio ancora tantissimi complimenti ad AID per l'aggiungimento che ha ottenuto. E ti auguro un grosso in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro. Quindi, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!